oh no, andiamo a farle prima unico non vado in cui voglio chiare a quelle deve nemmo anche uno ch99 una media di stagione e un'altra prima di tivi che non è niente, non è l'ora non è l'ora non è l'ora che non è niente, non è l'ora omo de nemmo anche umiare